Neo-direttore generale Riccardo Canuti, pronto per questa nuova esperienza a fianco di Giorgio Pompori? Prontissimo, perché è un'esperienza affascinante, simulante. Stiamo lavorando, come ha detto Giorgio, da diversi giorni, parecchie ore al giorno, per cercare di individuare gli elementi giusti e le persone giuste. Un anno in più di esperienza è servito tantissimo, perché abbiamo capito tante cose, anche i nostri errori, perché ne abbiamo commesi, altrimenti non sarebbero andate le cose in questo modo. Però poi alla fine, tutto sommato, dovendo fare un bilancio consuntivo, considerato come era chi di calcio un anno fa, rischio di iscrizione al campionato di terza categoria, e finire un campionato a ridosso dei play-off, secondo me non è neanche stato fatto un pessimo lavoro. Si poteva fare meglio, quello senz'altro, però neanche tutto da buttare, tutto da scartare. Non credo che sia il caso di dover creare dei casi, montare dei casi. Io l'unica cosa che ha detto lui, ci tengo a dire, non verrà più accettato da parte di nessuno, chiunque esso sia, che possa essere la carta stampata, radio, televisioni o anche social network, che vengano fatti degli attacchi infondati, completamente privi di fondamento, attacchi falsi, attacchi gratuiti, attacchi diretti solo a screditare delle persone che lavorano tante ore al giorno. Quello no. Oggi è stato fatto, più numerosi impegni che abbiamo avuto oggi, oggi è stato fatto un'altra cosa importantissima, che Luca Tosto ha rinnovato il suo impegno nei confronti della Chiedi Calcio, e faccio i miei più grandi crui a tutta quanta l'industria Tosto, perché ha raggiunto un obiettivo importantissimo, che è quello che ha giudicato ai vincitori della ruota di New York, per cui prossimo all'inaugurazione. Lo ringrazio pubblicamente per il supporto che ci dà, e settimana prossima avremo un incontro importante, da lui, fatto direttamente in azienda da lui. Questo vorrei dirlo tranquillamente, serenamente, qui si sta lavorando, noi guardiamo al futuro, a voi vi piace parlare del passato, il passato è il passato, il passato poi mi rende ancora più vecchio, perciò guardammi al futuro serenamente e seriamente. Buona estate a tutti quanti, nel frattempo noi a Roma continuiamo a lavorare comunque.